SIGLA Si chiama Hirut Asafa, a 14 anni. Cioè, una ragazzina ha ucciso un uomo. SIGLA Desiderava sposarsi, seguendo la nostra tradizione e la rapita. Sono avvocati. Sono qui per aiutarci. Non crediate di poterle salvare la vita. Nessuno è al di sopra della legge. Ho deciso di portare il ministero davanti alla Corte Suprema. È un passo molto grave. Non ci possiamo permettere di rischiare tutto per una sola ragazza. Io volevo solo tornare dai miei genitori. Ciao a tutti. Oggi parliamo di Vin Diesel. Dovete sapere che ha iniziato a recitare a sette anni, dopo che con i suoi amici si era introdotto nel Theatre of New York City con l'intenzione di compiere atti vandalici. Ma una donna che lavorava lì se ne accorse e diede loro un copione e 20 dollari e accettò di lasciarli andare solo se loro avessero promesso di tornare in teatro per le prove tutti i giorni dopo la scuola. Non male come inizio Vin. Ciao al prossimo video.